Un latte macchiato, tiepido, senza schiuma e con poco caffè. Tiepido e non freddo. Poi mi chiedi le cose. Ma che fila ha fatto Giacomo? Ma dove vuoi che sia, al reparto libri. Guarda, guardalo lì. Ma quanti libri legge quello lì? Ma neanche uno, ne compra 100 al mese e non gliene ho visto sfogliare uno. Guarda, guarda. Adesso passeggia con le mani dietro la schiena. Hai visto? Va, 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 si avvicinebbe a essere freddo. Lo sappiamo.